Porca p***a, che botta, minchia che botta, mi sono ucciso la... Aaaaaaah È andata giù la lampada, è andato giù tutto, minchia però... Vabbè Ragassuoli siamo qua tornati su Geometry Dash, un gioco molto bello che non ti fa inc***are ma neanche minimamente Ma prima di cominciare il video e spaccare 12 tastiere volevo dirvi una cosa Grazie mille ragazzi a tutti perché siamo arrivati a 50... Perché faccio così se sono 5 gai A 50.000 visualizzazioni totali sul mio canale Grazie mille a tutti, uno per uno, grazie mille Dato che sono una persona seria mi sono dimenticato di far partire la registrazione dell'audio di OBS dello schermo Quindi non si sentirà la musica del gioco per metà del video circa, finché non me ne accorgo Sorry Allora ragazzi non mi ricordo dove eravamo rimasti con questo gioco Eravamo arrivati a... arrivasti Eravamo arrivati a Time Machine mi pare Sì credo di sì Abbiamo finito tutti quelli dietro a parte Time Machine Ok ragazzi sappiamo già l'obiettivo di oggi qual è Let's go Ok ragazzi presumo già che... Secondo che c'ho il cavo del... Ma funziona ok Beh perfetto Ottimo ragazzi Partenza ottima Vabbè comunque ragazzi io volevo dirvi intanto che giochiamo Perché questo gioco qua ragazzi per chi non lo sapesse è tranquillo questo gioco Molto tranquillo e molto rilassante specialmente Ecco partiamo malissimo Allora c'ho il cavo delle cuffie no perché non ho il computer sotto di me ma bensì ce l'ho di fianco E quindi c'ho il cavo delle cuffie che mi passa in mezzo alla tassiera un casino Poi ci sono momenti in cui divento serio perché non ce la sto facendo capire Allora ottavo tentativo ragazzi comunque... Ma perché mi è venuto in mente di rigiocare a sta merda Allora questi tre triangolini di merda io li odio perché essendo tanto vicini poi bisogna saltare in un modo per... Per azzeccare devi pregare tutti i santi Ok sono già qua Ok ottimo Sono arrivato qua Io non mi ricordo assolutamente cosa c'era da fare dopo perché questi livelli li avevo fatti live se vi ricordate E non mi ricordo Tipo tre mesi fa E sono passati due mesi quasi dall'ultimo episodio di Geometry Dash E meno male mi sono preso una pausa Vai su posta Ok Ok non sto capendo una minchia Non sto capendo una min... Oh Cosa sto facendo? Non sto capendo una minchia No 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 raga fermi 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 non sto capendo una minchia Perché adesso è rallentato? Ma lo sca... Tua sorella è in putrefazione dentro i cassonetti Ma perché raga perché? Potevo morire di triangolini di buchi che non c'erano no lì Cazzo c'era un salto L'ho fatto uno Ne ho fatti 40.000 su sto livello Uno ne devo fare Manco quello Va bene Sì ora ritrovare Ritornare su quel punto Vi dico subito se siete sensibili... Porca vacca Se siete sensibili alle parolacce ragazzi Dato che non le biperò Però per favore un salto ce la puoi fare grazie Dato che non le biperò perché non ci voglio le biperare tipo tutte Dato che è un gioco molto bello Vi consiglio se siete deboli alle parolacce andatevene via Andate a giocare con le barbie e a guardare i video dei miei contro te Bella Non... Due, tre, due Non riesce a... Fatto cadere la luce Vaffan... Eh... Sì Ok E fin qua E fin qua c'era arrivato pure prima Il problema è dopo non è qua E qua è il problema E fin qua La suppo... E tu... Te la infilo lo sai tu che quella supposta Allora vediamo... Vediamo... Vediamo se... Se ce la posso fare Devo essere comodo col mouse Postazione e tutto perché se no... Ok Dai proviamo a giocarla seriamente Che bella battuta Imano E' un videogioco E' fattibile perché se ce l'hanno fatta D'altre persone Perché non dovrei riuscirci io Ne so tanti i motivi per cui non dovrei riuscirci Oh Mi ti ammazzo Consignatemi ragazzi degli altri Impossible Game Sotto nei commenti Dato che Questi video solitamente ottengono più mi piace degli altri Dai 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 Tre triangoli di merda Tre Sempre tre Quelli da due sono una cagata Quelli da tre sono Impossibile Non è normale fare Quelli da tre al primo col... Volevo comprarmi il Super Meat Boy Solo che costa tipo 20 euro E quindi ho detto un attimo Aspettiamo un po' va Non credo ne valga la pena Se questo video raggiunge 50 like la sparo grande Faccio un video e mi compro Super Meat Boy giuro Chiamiamo sto tipo Voglio una Grazia Grazia Perfetto Perfetto Ok Magari adesso funziona di più Perché comunque Chiedendo una grazia magari arriva Vediamo un po' se funziona Vai Voglio una grazia Voglio vedere cosa succede adesso Giuro che se Bene Non è andata benissimo Che poi non è che mi fa incazzare il fatto che muoio Mi fa incazzare il fatto che muoio sempre negli stessi punti Cioè Non si abitua il mio tele... Eh sì il mio telefono Il mio cervello a saltare in quel punto No No Non può Non può E fin qua Oh Ti prego no 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 Mi capito in depressione così Dai raga Si capovolgeva tu Ma no 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 Quanto ero? Ero alla fine Ero alla fine Che divertente sto gioco Ma perché ho saltato poi lì? Dai però zio non puoi farmi caldo Sto cliccando esc Ti fermi un attimo Ma i mortacci di tu sorella Ok Quando arrivo a determinati punti Devo rimanere concentrato Non devo perdere la calma Perché io perdo la calma come tutti Perché comunque ti viene un po' di adrenalina Dici oh mio dio non ci sono mai arrivato fino a qua E quindi tu devi mantenere la calma Perché se perdi la calma Questo gioco di merda Ti fa Morire O meglio sei tu che muori Però comunque Vabbè E' stato fatto apposta sto gioco E' fatto bene Guarda Fatto bene non c'è dubbio E' un po' incazzare Però per il resto è fatto bene Tieni la calma Calma No Non devo Questa è quella buona raga Me la sento Non so perché Me la sento Me la sento Questa è quella buona Adesso tipo Gufato tantissimo Perché non sarà mai quella buona E lo sapevo Lo sapevo Dai zio però Non ti puoi scantare contro il muro Cioè Dai Dai zio Dai basta però Con sta supposta delle palle Dai Cavolo Una cosa deve fare qua Su puoi andare dritto Manco quello Non riesco No 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 C'era la supposta C'era la supposta C'era male C'era Io sto perdendo Giuro veramente No 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 Quanti tentativi ho fatto 400C Tiro il mouse Avvertimento Tiro il mouse Avvertimento Punto e basta Giuro che lo tiro Se muoio ancora una volta lo tiro Se muoio nell'ultimo punto Dove sono arrivato prima Lo tiro Ma tiro veramente Tiro il monitor A quel punto L'ho detto e l'ho fatto Il mouse è qua Perfetto Bene Andato Un mouse in meno Già che funziona ancora Una grazia divina Infatti A quanto pare Mi sa che non funziona più di tanto No 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 Dai zio Perché ti muori lì Devi saltare lo stesso Ma dai Concentrazione Time Tua madre Intagenzia Tra l'altro ragazzi Vedo che va tanto di moda Ultimamente di nuovo Perché Fabi Gio l'ha riportato Il draw my life E quindi volevo farlo anch'io Però Per uno speciale Possibilmente Non così a cavolo Perché comunque Il draw my life Ragazzi ci vuole tantissimo Per realizzare un video del genere Tra narrazione Disegno Montaggio E tutto Ci vuole un casino raga Quindi Vediamo di arrivare a un traguardo E poi Io ho deciso se farlo o meno Ma credo di farlo Molto probabilmente Perché Non lo so Mi sono bloccato Non so più cosa dire Non so più cosa dire Sono in pieno In pieno Fin Agosto Siamo in agosto Primo di agosto No due di agosto In realtà quando state venendo questo video Fa un caldo bestia Io sono qua Due di agosto Una persona cosa fa Va in giro Va in piscina Va al mare Ma dove Io mi abbronto con le lampade E poi un po' con te E più che altro Veramente Io non so più cosa dire Sto parlando a A Bamber Giusto per Riempire il tempo E Aspettare di meno Arrivare fino a Arrivare fino a quel punto Di prima Dato che ci arriverò Tra tanto tempo Guarda quanto ci metto Ad arrivare qua Quanto ci metto Allora raga Concentrazione Anche se Quando mi concentro Faccio delle cazzate immense Allora E quindi Provo a non concentrarmi Faccio Così all'adminchiam Spariamo all'adminchiam Vediamo se funziona Dai Ma perché Sembro monco Non mi va più Il braccio Non riesco più A cliccare No 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 E poi muoio qua Mi incazzo Ancora di più Questo video Dorerà 20 minuti Va bene lo stesso Basta che lo finisco Ti prego No Saltato Guarda Io Allora Sessantatresimo tentativo Ultimo Basta Finisce questo Giuro che chiudo il video Non so che titolo dare Perché comunque Non ho fatto niente Si un per cento Ho fatto Quello ho fatto Ragazzi spero che il video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mersete un bel like Commentate e iscrivetevi al canale Noi ci rivediamo Sempre in un prossimo video Ciao ragazzi